Grandi preoccupazioni per la sicurezza del governatore della Calabria Roberto Occhiuto hanno portato alla regione a noleggiare una nuova auto più sicura per l'utilizzo del presidente senza che lui abbia fatto alcuna richiesta. Toccò ad Agazio Loiero a seguito di minacce ricevute pochi mesi fa dopo le elezioni e anche Giuseppe Scopelliti che in realtà la scorta se la portava dietro dai tempi in cui era sindaco di Reggio Calabria e proprio nei bagni del comune vennero trovati mezzo chilo di esplosivo e due detonatori. Nel caso appunto del presidente Occhiuto non sono note le ragioni perché hanno portato alla decisione di assegnargli una scorta non c'è stata alcuna denuncia da parte del governatore o segnalazione. È plausibile che dietro la decisione delle forze dell'ordine ci siano elementi investigative ma non si esclude la decisione che sia ricondurre all'attività di governo e decisioni assunte dal governatore. Dalla tolleranza zero nell'operazione mare pulito alla caccia piromani con i droni. Ma proprio per garantire l'incolumità del politico la cittadella ha scelto un SUV noleggiato per 36 mesi al costo di 115 mila euro. La richiesta è stata fatta appunto dal 25 ottobre dal capo di gabinetto che ha chiesto l'acquisizione di un'autovettura di grande rappresentanza ad uso esclusivo del presidente di adeguata cilindrata con elevati livelli prestazionali dotata di standard qualitativi atti appunto di garantire la sicurezza e l'incolumità fisica e anche il comfort del presidente delle forze dell'ordine al suo seguito nei viaggi legati alle sue funzioni istituzionali. A settembre la casa al mare di Occhiuto nel comune di Belvedere Marittimo è stata adeneggiata da un incendio appiccato in maniera dolosa. Le fiamme hanno distrutto un gazebo all'esterno della casa. Probabilmente affermato il presidente è un incendio di vegetazione anche se è singolare che sia stato appiccato proprio qui a pochi metri della casa ma da tempo Occhiuto è impegnato in una campagna contro i roghi che devastano la regione. Per il vicepremio era Antonio Tajani l'episodio è stata una grave intimidazione.